Perchè l'editore? Li avevo fatto segno che non c'ero! Non li parli mai! Questa sono io Questa è Sara Qui c'è la mamma e qui c'è Lia Oh, è bellissimo tesoro Cata, non lo puoi fare Che cosa? Non puoi disegnare la mamma e Lia insieme Ne puoi dire alle tue compagne che hai due mamme Ti presento la mia compagna Lia, le Ximena Vieni qui Ma certe volte credo veramente che voi due siate un pochino troppo ingenue Credete di vivere a New York Paola No, no, ascoltami, sta a sentire Questa faccenda la risolveremo in tribunale Ma con quale faccia vieni a dirmi? Mi prenderò le bambine Non è nervoso quello stronzo Vuole solo farmi paura Tu non lo conosci Sarei felice se veniste a vivere con me per un po' Potremmo divertirci No, 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 no Quello che dici sempre È verne Che bella famiglia che hai Davvero Sì, sì Per fortuna andiamo molto d'accordo Ehi, che succede? Ma fa la prima Che succede che qui nessuno mi ascolta? Mio padre dice che vincono sempre le madri Anche se sono cattive madri Mia madre non è una cattiva madre Mio padre dice che vincono sempre le madri